Si conclude con la finale nazionale di Duotlon, la lunga rassegna di appuntamenti sportivi che hanno visto Pavia protagonista nel 2018. Sì, durante il mese di settembre e ottobre abbiamo avuto una lunga serie di appuntamenti sportivi molto importanti, appuntamenti diversi per tipologia, nei quali abbiamo avuto la possibilità da una parte di vedere grandi atleti all'opera. Faccio riferimento ai campionati nazionali Under 23 societari che si sono tenuti al Campo Coni il 23 settembre, oppure grandi appuntamenti in cui è stato chiesto a tutti i cittadini che avessero voglia e fossero preparati di fare una corsa e la Corri Pavia piuttosto che la Ticino Eco Marathon sono gli esempi più vicini. Oggi presentiamo invece l'ottava edizione del campionato italiano di Duotlon che si terrà il 28 ottobre, un'altra grande occasione per i pavesi per vedere grandi atleti all'opera. Ci scusiamo fin d'ora con tanti cittadini perché dovremo per forza chiudere la tangenziale in un tratto dalle 13 fin verso le 16 del 28 ottobre, ma riteniamo che questo sacrificio sia un sacrificio ben speso in quanto avremo la possibilità di ospitare un evento competitivo di importanza italiana. E quindi ancora una volta Pavia si trova al vertice dell'attenzione sportiva e quindi ci aspettiamo un grande afflusso di cittadini per vedere questi atleti in azione. Finale nazionale di Duotlon il 28 ottobre, sentiamo poi i dati tecnici della corsa. Dunque sarà appunto una gara di Duotlon in cui ci saranno tre frazioni come tutte le gare di Duotlon, una prima frazione di 5 km di corsa, ingresso al cambio all'interno del Pala Treves, al parcheggio del Pala Treves, per poi uscire e quindi compiere due giri di bici su un circuito a bastone per un totale di 20 km. Ritorno nuovamente al parcheggio del Pala Treves per uscire di nuovo, compiere un'altra frazione di corsa per un totale di 2,5 km.